Questo è un giorno speciale, ma perché segna un altro passo, perché segna la nascita di un'azienda nuova. Oggi CTM vuole e costretta, ma ha il piacere di ritrasformarsi e segnare altri 130 anni di storia. Io non vedrò raccontare, ma sono orgoglioso di aver contribuito per la nostra storia.